Oggi vi mostro l'ultimo custom effettuato e parliamo di un bellissimo G33 F-TAN della ICS. Per questo motivo ringrazio l'amico Massimo che mi ha dato la possibilità di mettere mano su questa replica dove praticamente come un po' tutti i miei custom vengono stravolti. Le note importanti diciamo così sono che essendo un Gearbox V3, a parte come sempre ho cambiato tutto il gruppo aria FPS, ho installato un motore Potency 26K ad albero corto e ho inserito un MOSFET della Perun dove poi ho potuto anche impostare il pre-cooking, della replica di originale è rimasto lo spingipallino con il suo T.O.P.A.P. dedicato e la sua canna originale. Ora vi voglio fare sentire anche come suona. Molto molto reattivo, ma ora andiamolo a testare sulla linea di tiro alla distanza di circa 58 metri con pallini 0,28 e vediamo come tira. e vediamo come tira. Bene ragazzi direi prova più che superata, è venuta fuori veramente una Top Gun e cosa dire, repliche come queste sono sempre abbastanza noiose da dover andare a customizzare per via della loro conformazione, per via dei vari smontaggi, perché per quanto sia facile anche togliere, diciamo così, il Gearbox dalla struttura della replica, poi dopo quando c'è da andare a fare qualche accorgimento per entrare nel giaule e quant'altro non avendo sganci, guida a molla rapidi, cose varie, è sempre abbastanza laboriosa. Ok? Beh però il risultato è stato ottimale. Come sempre ragazzi vi invito a seguirmi sul mio canale per mostrarvi un attimino un po' tutte le elaborazioni che escono appunto dal Lab ATJ, per questo motivo ne approfitto anche per ringraziarvi dell'incremento che c'è stato sulla pagina che sempre ogni giorno che passa è sempre più seguita, la cosa mi fa molto piacere siete veramente in tanti che mi scrivete, mi chiamate per preventivi, custom e così via e quindi vuol dire che il mio lavoro è molto apprezzato per questo motivo mi è sentito e mi è in dovere dovervi ringraziare perché è una cosa che mi fa veramente molto felice e vuol dire che il mio lavoro è apprezzato Bene, come sempre ci vediamo al prossimo custom. Ciao!